netlex lo studio legale ovunque perché netlex uno studio migliore in 10 semplici passi semplicità netlex è stato realizzato con gli avvocati per gli avvocati per questo risolve in maniera semplice e veloce i problemi degli studi legali l'interfaccia grafica di netlex è stata studiata per essere intuitiva al massimo la maggior parte dei nostri clienti non ha bisogno di alcun manuale per utilizzare il software per chi volesse sono a disposizione video tutorial rapidi per imparare tutte le potenzialità del gestionale nessuna installazione e portabilità grazie alla tecnologia cloud potete usare netlex quando volete dove volete a casa in studio in ufficio e ovunque ne abbiate bisogno vi basta essere connessi ad internet la mancata necessità di un server di un sistemista e di manutenzioni alla rete fa risparmiare migliaia di euro ad uno studio legale inoltre la partenza nell'uso è immediata basta un clic e si inizia ad usare il programma sicurezza di livello bancario il data center di netlex ha certificati di sicurezza di massimo livello nel dettaglio è certificato iso 9001 iso 14001 iso 27001 connessioni criptate firewall sistemi anti intrusione e backup continui rendono i vostri dati molto più sicuri che sul computer di studio in un data center cloud migliaia di macchine interconnesse lavorano in rete per garantire la continuità del servizio in caso di guasto ad una macchina una sua replica prende il suo posto in tempo reale senza che il cliente si accorga di nulla deposito telematico no problem netlex ha sviluppato l'interfaccia più semplice per il deposito telematico a differenza di molti redattori legge inoltre le risposte dalla pec dell'avvocato e le fascicola ordinatamente il team di netlex monitora continuamente i depositi telematici effettuati sulla piattaforma e in caso di problemi ci preoccupiamo di chiamare direttamente il cliente per consigliarlo sulla migliore soluzione notifiche in proprio in due minuti avete mai fatto una notifica in proprio a mano vi siete persi nella giungla delle impronte digitali e delle dichiarazioni di conformità con netlex fare una notifica in proprio impiega meno di due minuti dovete solo selezionare i documenti da notificare e pensa a tutto lui un gestionale a 33 centesimi al giorno la potenza di netlex in termini di funzionalità ha un costo piccolissimo 10 euro al mese ad utente 33 centesimi al giorno integrato con il pda e le banche dati netlex è il primo gestionale integrato con un punto di accesso alla giustizia potete fare deleghe scaricare i dati da polisweb e i pagamenti telematici tramite le banche dati potete invece scaricare bilanci misure ed altri certificati del registro imprese la migliore agenda legale esistente netlex ha creato la migliore agenda legale per avvocati in grado di notificare le scadenze via email di essere trasportata sul cellulare di rilevare quando una scadenza viene esaltata o un rinvio mancato l'assistenza che avete sempre voluto il nostro servizio di assistenza è a disposizione per aiutarvi in ogni momento con operatori altamente qualificati e pronti a collegarsi sulla vostra postazione per risolvere rapidamente i vostri dubbi contabilità facile con netlex è facile tenere sotto controllo i costi anticipati per le pratiche e mettere preavvisi di parcella e fatturarli al pagamento grazie ad una dashboard riepilogativa avrete sempre a disposizione un quadro economico di ogni pratica netlex lo studio legale ovunque